Un cane randaggio è rimasto ustionato dopo che qualcuno gli ha buttato addosso dell'olio bollente. Un episodio davvero raccapricciante. La denuncia, Sala Consilina e dei volontari dell'OIPA che rivolgono un appello a quanti possono avere informazioni utili ad identificare il responsabile. Il cane, che da tempo stazionava nei pressi del locale Terminal Bus e aveva conquistato l'affetto dei viaggiatori, era scomparso per due giorni. Qualche giorno fa ricomparso in condizioni drammatiche, visibilmente ferito, con gravi ustioni su tutto il corpo causate, secondo i primi accertamenti veterinari, da olio bollente. Il cane è stato subito soccorso da una giovane che solitamente si prende cura di lui e che disperata ha contattato una delegata dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali in cerca di aiuto. A rispondere all'appello è stato un volontario dell'OIPA che ha portato l'animale presso una clinica veterinaria dove ha ricevuto le prime cure mediche. Un atto di vera e propria tortura nei confronti di un cane che non faceva altro che cercare una casa e un po' di affetto, hanno scritto in una nota i volontari dell'OIPA. L'organizzazione, attiva nella protezione degli animali, ha lanciato un appello alla comunità invitando chiunque abbia informazioni utili ad identificare il responsabile di questo atroce gesto a segnalarlo anche in forma anonima scrivendo l'indirizzo email vallodidiano-oipa.org o contattando la pagina facebook dell'OIPA.